Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come esportare un set di Master Pages da un progetto e importarlo in un altro progetto. Questo non è un video su come creare una Master Pages e su cosa sono le Master Pages in Dory, esistono diversi altri tutorial fatti molto bene, soprattutto in lingua inglese, su internet, magari un domani ne farò anche io uno in italiano, però questo in particolare serve per capire come sfruttare queste Master Pages come fossero dei template e quindi utilizzarle poi in altri progetti. Può essere molto utile ad esempio se si sta scrivendo una serie di libri o una serie di partiture e si vuole avere lo stesso formato di diverse pagine in ognuno di questi. A questo punto dopo aver creato il formato di queste pagine una volta sola le si esporta e poi si dovranno cambiare soltanto i dati. Una volta creato il nostro set di Master Pages dovremo andare a selezionare quello che vogliamo esportare in questa colonna e cliccare su questo pulsante. Possiamo andare a decidere in quale cartella salvare il nostro set, inseriamo il nome con cui vogliamo salvare il nostro set e clicchiamo salva. A questo punto in un nuovo progetto sempre nella sezione tipografia possiamo importare il set che abbiamo salvato. Per farlo dobbiamo aprire il menu tendina Master Page Sets e cliccare sul tasto adiacente a quello cliccato precedentemente che servirà per importare il set e a questo punto clicchiamo sul set che vogliamo importare. Come vedete è stato aggiunto ai set disponibili per questo progetto. Nella sezione Master Pages sotto Current Set possiamo selezionare il set che vogliamo utilizzare ovvero nel mio caso Film Scoring e vedete che compaiono esattamente le pagine che avevo creato per la partitura che abbiamo appena visto. A questo punto voglio inserire un certo numero di pagine che precederanno la partitura. Nel mio caso voglio metterli fronte e spizio, poi una pagina vuota e una pagina con i crediti del film. Quindi clicco su questa icona e si aprirà la finestra di dialogo che mi chiederà quante pagine inserire prima dell'inizio della partitura. A questo punto posso o inserire direttamente tre e poi cliccare ok e andare in un secondo momento ad assegnare un modello a una determinata pagina oppure crearne una per volta e a questo punto dirgli quale Master Page utilizzare da questa menu tendina. Purtroppo non è possibile farlo tutto in una volta da questa finestra di dialogo perché nel caso in cui scrivessimo tre pagine e dicessimo ad orico di selezionare il fronte e spizio o una qualsiasi altra Master Page, il programma inserirebbe quel modello su tutte le pagine create. Di conseguenza io preferisco cliccare su tre, inserire prima della pagina selezionata ovviamente e poi andare a assegnare successivamente il modello a ciascuna pagina. Quindi creo tre pagine che come potete vedere sono vuote e a questo punto clicco sulla prima pagina, tasto destro, insert Master Page Change e si aprirà una finestra di dialogo che mi chiederà quale Master Page assegnare alla prima pagina. Quindi dico fronte e spizio e poi seleziono solo su questa pagina. Infine dobbiamo ricordarci di togliere l'override sulla pagina su cui stiamo lavorando e compare il modello esattamente come l'avevo creato. La seconda pagina voglio tenere libra. Sulla terza pagina clicco ancora inserisci una Master Page dalla pagina 3, qui voglio mettere i crediti e anche qui indicare che lo voglio solo su questa pagina. A questo punto clicco ok, vado a rimuovere l'override e compare il modello che mi ero creato per quanto riguarda i crediti del film. E poi inizia la nostra partitura. Spero che questo video sia stato utile e se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo nel prossimo tutorial. Grazie. Grazie.